Non c'è il bello mio? Sì Dammi un bacino Ah Io piace te Mua Mua Cozzuzanda, Cozzuzanda Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai Ragazzi, oggi sono tornato in questo nuovo video su Clash Royale Me lo avete chiesto in tantissimo sia Clash Royale Che lui Per chi se lo ricorda, come ti chiami? Io sono Pokai Va, va, basta con le presentazioni Molto di voi si stanno chiedendo perché ho avuto un pochino di inattività Perché ho dovuto iniziare a lavorare e per forza di cose ho dovuto un po' trascurare YouTube E ho preso l'occasione delle ferie per prendermi un attimo di pausa E ora con l'arrivo di settembre Vi porto pure questo È da un anno che non lo vediamo sul canale ragazzi Perciò voglio almeno 10.000 like Ragazzi, oggi siamo su Clash Royale Per un grande evento che c'è sul baule Speciale Gran Cavaliere E oggi lascerò al ciccione Che mi scioppi ben 14.000 gemme Che sono all'incirca 109 euro Quanti like ciccione? Ok Apri Comentare Niente 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 Allora troviamo 11 giganti Poi successivamente a riete da battaglia Apri ancora 523 spiriti di fuoco 91 fornace Golem 23 Ultima leggendaria Ok Apri 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 Abbiamo sbloccato il Gran Cavaliere No 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 Basta aprire Basta aprire Ragazzi Ora con il ciccio bombo Andiamo a fare un deck Con il Gran Cavaliere Ok Ok Ho fatto un deck così tanto per il ciccio bombo Ecco ho fatto un deck così tanto per il ciccio bombo Solamente per farli provare il Gran Cavaliere Ragazzi andiamo subito a fare una battaglia Oh inizia a giocare Pokai L'altro ha iniziato a giocare Ok mettiamo Sai giocare a meno vero Pokai Sai giocare Dimmi di si Dimmi di si Non scaricare la cazzo di cane No Non sulla torre centrale Pokai Guarda che l'altro si incazza L'altro si incazza Dai Goblin c'è il botano L'hai fatto relativamente bene L'altro mette un tronco E golem di ghiaccio Che serve Pokai Ok Il Cavaliere è in leggera difficoltà Ma riusciamo forse ad arrivare alla torre Cosa gli mandi gli smile cattivi Allora Io Ok Io ti consiglio di mettere questo dopo Appena puoi No 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 Eccolo eccolo Ti metto io dei goblin Ti metto io dei goblin Eccolo qua Bella la torre infernale Ora Pokai Ok 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 Capito Capito Tu stupido io stupido Tu Gioca tu gioca Stai zitto Ok ragazzi ci saranno per distruggere la torre Pokai metti questo ti ho detto Appena puoi Tranquillo 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 Pay attention Non sottovalutare mai nemico Anche se abbiamo il ciccio bombata Scaricalo 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 Vabbè dai Fa niente Una scarica buttata così Ma noi non ci fa paura Il ciccio ne butta dei goblin Goblin Ok Vediamo Si L'ha preso un pochino la torre Ma neanche tanto Ora devi stare attento al maghetto di ghiaccio Perché sta arrivando verso la nostra di torre Mega sgherro Bravo Bravo Ok Ti metterò anche un pochino più avanti Accompagna l'osso No 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 Vabbè 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 L'arco X No l'avversario forse mette Il gran cavaliere Il nostro cavaliere No Il nostro cavaliere là è morto Non fa purtroppo molto Con la torre inferno riusciamo a parare No no Metti questo assolutamente Bravo Ok Ora siamo sulla difensiva Perché il nostro cavaliere non è riuscito A entrare No 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 Attento un pochino Sta arrivando il cavaliere Quello che sembra una scimmia Ok Ora dobbiamo essere in difesa Perché ha anche il drago infernale E persino il maghetto Ok il maghetto morto Ok aspetta aspetta No 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 Metti 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 No 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 Absolute no Absolute no Absolute no Oh un shot bitch Ok Siamo in difficoltà ragazzi Le torri sono a pareggio Ora abbiamo il tempo extra E vediamo chi la spunterà Il ciccione E l'altro ragazzo che si chiama boss Thunder O I avversari che non so neanche come si pronunciano Oh oh no 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 Ciccione nessuna Ciccione nessuna Oh Tutto adesso Ma ragazzi guardate Le nostre facce Ma siamo cugini secondo voi No Ok il ciccione ha straperso Giustamente ha straperso Ora tocca a me farne un'altra Ok raga Ora tocca a me con lo stesso deck Andiamo due contro due Partita veloce Allora L'avversario ha i barbarescetti E anche il domatore Perciò siamo messi relativamente bene Aspettiamo Ok L'altro ho messo la Varchiria Io metto il maghetto Attento la strega Attento la strega Zulii Zulii Aspetta aspetta No 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 Ok ok ora ora Mettere questo bastardo Grande Ok Forse sta partita È già È già meglio rispetto a quella precedente Invece Si 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 ragazzi Eh no 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 Non distrarmi Pokai Non distrarmi Ok Alla torre di destra Abbiamo recato Tanto danno Cioè Ditemi se devo concentrarmi in queste condizioni Lui che prova a baciarmi Perché mi hai messo un domatore? Perché mi hai messo un domatore Pokai Oh my god Oh my god Scarica 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 Ok Due domatori riescono a prendere la torre nemica Ora in teoria basta che mi difendo E la partita è mia Ok Lui mette anche la Varchiria No 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 Non ci siamo qua Non ci siamo Devo mettere la ladra contro la ladra Boom Shot Ma tu stai dormendo Pokai 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 Oh mio dio L'ho sottovalutato Mi ha detto Tu basta Buttami le carte Vabbè che questa l'hai buttato anche quasi decentemente Lo sai? Oh no Ok Alla destra siamo in difficoltà Abbiamo un domatore Sinistra abbiamo il boia Perciò devo aspettare No non riesco a aspettare niente No dio I sgheri del mio amico sono stati shottati La vedo dura La vedo dura Tempo bonus Aspetto solo te Tempo bonus Aspetto solamente te Un minuto alla fine della partita Ok Il boia il nemico sta per morire No Ragazzi non ci siamo Absolut No Non ci siamo assolutamente Che lui ha messo Ok siamo in leggera difficoltà Mancano 30 secondi alla fine della partita Siamo in pareggio Non ci piace Absolut No 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 In difesa in difesa Dobbiamo andare in difesa E appena possiamo ragazzi Dobbiamo sferare sto cosa qua Ok siamo Abbiamo poca vita Decisamente poca vita Sfera di fuoco Non mi è piaciuta Per niente Eccolo qua Tutto tuo baby Tutto tuo baby No No cos'è sta roba Cos'è Ok Ok Oh no 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 La nostra torre è stata congelata Non mi è piaciuto Per niente 50 secondi alla fine della partita Dai spero in tutto in quel domatore Spero tutto in quel domatore Dai ragà Nooo Tornado Non ci credo Avevo un barlume di speranze No Stai lontano Stai lontano Domatore Stai lontano Bravo ok Perciò Pareggio Non c'è molto da fare Purtroppo Tu hai finito un giusto Sì Tu hai finito un giusto Si Forse forse il mio domatore Forse il mio domatore No 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 Non c'è arrivato Ah Difesa 20 secondi È dura È dura È dura È dura Oh cazzo No 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 Thunder Ciccione abbiamo perso tutte le tue Ragazzi abbiamo capito che sia io che Ciccione facciamo schifo al Clash Royale Giuro domani video su Clash of Clans Bene ragazzi Questo è il video oggi I miei capelli sono sempre brutti E come al solito Spero vi sia piaciuto Con oggi riprendo i video su YouTube Tu devi salutarlo il mio accanto è mutato Ciao Ciao Io sono Io sono No po kai Bravo Noi ci vediamo il prossimo video Ommo hao città Ommo hao città Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao